La tasse per i consumatori che effettua lavori di ristrutturazione, oltre a godere di sgravi fiscali del 50% fino ad un massimo di 96.000 euro, può aggiungerne altri 10.000 se acquista grandi elettrodomestici, lavastoviglie, lavatrici, congelatori e frigoriferi. Bisogna però che l'elettrodomestico abbia una classe energetica a più o superiore. Inoltre, l'acquisto della lavatrice o del frigorifero dovrà essere successivo all'inizio dei lavori di ristrutturazione e pertinente agli stessi, cioè se si ristruttura solo il bagno, non si può chiedere lo sgravio per la lavastoviglie. Come si fa in concreto ad avere indietro questi soldi? Contestualmente alla presentazione della prossima dichiarazione dei redditi, bisogna allegare la fattura del pagamento che deve necessariamente essere stato fatto attraverso un bonifico tracciabile con una causale ben specificata e con il codice fiscale del pagante e la partita IVA o il codice fiscale del destinatario del pagamento. Il rimborso verrà pagato dallo Stato Scalandro dall'IRPEF delle prossime 10 dichiarazioni dei redditi in altrettante rate uguali e costanti, cioè se si chiede uno sgravio di 1.500 euro si pagheranno 150 euro in meno di IRPEF all'anno per 10 anni. La novità viene dagli emendamenti approvati ieri dal Senato, dopo essere passato quasi all'unanimità a Palazzo Madama ora il provvedimento passa alla Camera, in attesa dell'approvazione finale delle eventuali modifiche oltre che dei regolamenti attuativi che faranno ancora più chiarezza sui dettagli di questi sgravi fiscali.